appuntamento con il consueto riepilogo dei dati economici politici della settimana in collegamento da Roma quindi benvenuto Gilberto Trombetta. Bentrovato Carlo e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ultimo appuntamento con il venerdì perché dalla prossima settimana passeremo direttamente al martedì quindi Gilberto ci snocciolerà i dati faremo faremo il riepilogo e le analisi anche politiche oltre che economiche di martedì con Gilberto. Perfetto. Gilberto ci sono sempre tante cose di cui parlare io direi che partiamo con delle voci autorevoli che dicono che la stangata dall'Europa ci arriverà arriverà all'Italia quando la ripresa diventerà forte cosa che è prevista per il 2023 e per stangata si intende il riequilibrio della finanza pubblica. Cosa dovrebbe succedere? Allora innanzitutto specifichiamo che la ripresa forte se ci sarà non sarà la nostra quindi si parla della ripresa forte degli altri paesi Germania in primis Francia a seguire Francia un po' meno perché non sta benissimo ma dei paesi core centrali. Ecco quindi Gilberto diciamo già subito che questa informazione è già falsa di per sé perché non ci sarà nessuna ripresa forte in Italia. Diciamo che più che falsa è germanocentrica come tutte le comunicazioni che arrivano in ambito unionista europeista quindi in realtà non è proprio falsa ma non riguarda noi ma riguarda più la Germania e i paesi di Mitrofi. 2023 tra l'altro secondo me io mi permetto di dire che è una data ottimista perché già adesso nelle ultime settimane i cosiddetti falchi Weidmann in primo stanno spingendo per ripristinare ricordiamo che è stato sospeso il patto di stabilità e crescita. La ripresa in alcuni paesi già si sta avvedendo e già stanno dicendo di voler introdurre oggi non domani il patto di stabilità e crescita quindi secondo me al 2023 non ci arriviamo comincerà nel 2022 la stangata. Stangata che ovviamente sarà molto più forte se veramente come sembra il governo in carica o quello insomma il governo comunque sia l'Italia deciderà di ricorrere vari strumenti capestro già esistenti MES, SURE, BEI e quant'altro ancora di più per il recovery fund che ricordiamolo è un MES all'ennesima potenza e quindi la stangata arriverà in che ottica come dici te? Un progressivo aumento degli avanzi primari ricordiamo sempre che l'avanzo primario è quando uno stato in tasse balzelli leva i propri cittadini più di quanto gli offra in stipendi e servizi cioè è quella che comunemente viene chiamata austerità l'Italia la fa da quasi 30 anni dal 1992 a parte un anno ma a ritmi inferiori a quelli che furono imposti alla Grecia dopo ricorso al MES qua invece si tratterà di una cura da cavallo che noi italiani ancora non abbiamo mai visto quindi si tratterà di avanzi primari nell'ordine del 4-5% del PIL cioè della serie Gilberto il peggio deve ancora avvenire insomma assolutamente il cuore in pace non abbiamo ancora visto niente in pratica ecco ricordiamo sempre che l'Italia è uno dei paesi al mondo col maggiore risparmio privato l'Italia è uno dei primi paesi non solo l'Italia è uno dei paesi la cui popolazione è in percentuale maggiormente in possesso della casa che abita e non è in affitto sono tutte cose che non vanno giù e soprattutto sono tutte occasioni di rapina nei confronti del popolo italiano aumentare le tasse sugli immobili non sui palazzinari sulla casa normale in cui una normale famiglia vive magari ereditata dal padre o dal nonno quindi sulla prima casa e ripulire i risparmi privati come diciamo sempre per onestà va detto che il risparmio privato che è altissimo non è distribuito equamente tra la popolazione ma come al solito questa iniziativa andrebbe a punire soprattutto il ceto medio che è quello che è stato più colpito negli ultimi 10-20 anni sicuramente negli ultimi 10 sì anche perché il 10% più ricco della popolazione è ancora di più l'1% i soldi non ce li affermi sui conti correnti italiani per colpa dell'euro e dell'Unione Europea cioè della libera circolazione di capitali, merci e lavori quelli stanno nei paradisi fiscali investiti in attività all'estero a quelli i soldi non glieli levi dentro questo sistema chiaro, ecco questa è un'altra informazione importantissima perché stiamo andando, siamo ormai entrati in una fase storica dove la diseguaglianza sociale e economica cioè non si vedeva forse dai tempi dei faraoni probabilmente stiamo tornando ai livelli di fine ottocento per quanto riguarda la diseguaglianza e la rendita da capitale che è una delle cose che fa aumentare la diseguaglianza Certo, senti il recovery plan avrà tempi stringenti avrà in oltretutto tempi stringenti di utilizzo dei prestiti oltre al fatto che i prestiti saranno col contagocce come abbiamo visto anche nella puntata precedente della scorsa settimana e prestiti che saranno subordinati al loro utilizzo ovviamente che è deciso di fatto da Bruxelles Ecco, cosa significa il recovery plan che avrà tempi stringenti di utilizzo? Vuol dire semplicemente che l'utilizzo di quei fondi verrà deciso a monte direttamente a Bruxelles cioè non pensate che tempi corti vuol dire che il governo in carica dovrà sbrigarsi a presentare un piano che poi verrà abbagliato oggettivamente vuol dire che attiverà la solita letterina da Bruxelles che ti dirà questi sono i fondi che ti spettano questo è l'utilizzo che ti consigliamo di fare cioè un obbligo fondamentalmente anche perché sennò non hai tempo di rivederli la prova provata di quello che succederà ce l'abbiamo già oggi doveva essere approvata in settimana il Nadef la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che è slittata esattamente doveva essere approvata entro il 27 settembre è slittata perché è slittata? è slittata perché tra ieri e oggi cioè tra giovedì e venerdì il nostro premier Giuseppe Conte era atteso a Bruxelles dove avrebbe incontrato prevalentemente la Merkel che gli avrebbe detto va bene, non va bene, questo sì, questo no già oggi noi siamo sotto una forma di commissariamento più o meno occulto più o meno leggero fondamentalmente non per colpa degli strumenti che abbiamo già usato ma per colpa degli ascari al governo cioè è una scelta della nostra classe politica oggi non avrebbero strumenti così stringenti come avranno una volta che avremmo fatto ricorso ricordiamolo al recovery fund se mai esisterà perché io di questa cosa non sono convinto ma comunque vale lo stesso per me Bay, Shure e quant'altro e ricordiamo sempre sono anche creditori privilegiati quindi ripagliamolo pensare il costo del debito pubblico che oggi ha i suoi minimi storici per tutti i titoli quelli fino a cinque anni sono addirittura negativi cioè ci pagano oggi per prendere i nostri titoli di Stato a cinque anni quelli a 10, 30 e 50 hanno dei tassi di interesse ridicoli inferiori anche a quelli degli strumenti come MES, Shure, Bay e quant'altro Certo quindi ribadiamo il concetto tra l'altro in questi giorni qui Conte è diciamo la definizione corretta è a rapporto a Bruxelles perché deve essere istruito viene istruito sulle direttive da seguire per quanto riguarda la nota di aggiornamento al documento economico e finanziario ecco la verità delle cose è con queste parole è a rapporto a Bruxelles Benissimo ok questo è importante dirlo allora Gilberto diamo un po' di numeri e di fatti numeri alla mano rimane inspiegabile la volontà di voler ricorrere non solo al MES ma anche al Recovery Fund alla luce dell'entità dei titoli che sono stati emessi dall'Italia tra marzo e luglio di quest'anno no? Assolutamente ricordiamo sempre che il Recovery Fund noi la scorsa puntata avevamo detto stando ai documenti della Commissione Europea che i veri sussidi a fondo perduto sarebbero stato l'1,9% del PIL 32 miliardi a distribuire in una decina d'anni una miseria in realtà quelli comprendevano anche altre voci perché solo i soldi eventuali del Recovery Fund in realtà sarebbero l'1,4% del PIL cioè 25 miliardi a distribuire in più anni cosa è successo tra marzo e luglio? che l'Italia ha messo 110 miliardi di titoli di Stato escludendo il rinnovo di quelli esistenti quindi di nuovi titoli di Stato beh tra Banca Italia e BCE ne hanno comprato 110 miliardi cioè il 100% una cifra incredibile e tra l'altro un successone sì ma rendiamoci conto che ricordiamo sempre più che altro perché non tutti lo sanno se lo ricordano che i titoli di Stato a prescindere da i tassi di interesse quando sono detenuti dalla Banca Centrale Italiana vuol dire che gli interessi che matura li riversa allo Stato è una partita di giro avessimo anche tassi di interesse al 10% ma i titoli di Stato stanno tutti in pancia della Banca d'Italia il governo con la sinistra lo Stato con la sinistra gliele dà e con la destra se le riprende un nanosecondo dopo quindi sono a tasso zero ricordiamo anche questo e quindi appunto a fronte di 110 miliardi di titoli collocati a tasso ridicolo il più basso della nostra storia andarsi ripeto a mettersi il commistariamento dentro casa fino al 2058 per 25 miliardi di euro ditemi voi come si può chiamare questa cosa è proprio una precisa volontà politica imposta a questo punto per mantenere il vincolo il vincolo esterno e che rende Gilberto con questi presupposti rende irrilevante chi è al governo direi perché a quel punto devi seguire paro paro le direttive di Bruxelles a quel punto renderà irrilevante la presenza di un futuro governo che magari è veramente anti unionista socialista per la distribuzione il governo di oggi non c'è problema perché fanno tutto da soli certo sono usciti i nuovi dati Istat ma anche i dati di altre fonti e sono molto significativi sono catastrofici non vogliamo fare gli allarmisti ma poi ognuno giudicherà con le proprie orecchie adesso non perderò tempo perché sono tanti dati è giusto darli in sequenza tanto sono dati semplici da capire la pressione fiscale che in Italia è già alta e ricordiamo che l'evasione è dovuta prevalentemente alla pressione fiscale e non certo all'uso del contante beh sta al 43,2% sapete cosa vuol dire che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è aumentata quasi di due punti percentuali in piena crisi hanno fatto aumentare la pressione fiscale è veramente una cosa è criminoso è criminale non bisogna tirarci intorno fatto sta che il reddito disponibile delle famiglie ha diminuito di quasi sei punti percentuali cioè del 5,8% i consumi sono diminuiti dell'11,5% e il potere di acquisto delle famiglie che fa quasi scopa con reddito disponibile ovviamente se diminuisce il reddito diminuiscono pure i consumi e infatti sono diminuiti del 5,6% non basta perché nel secondo trimestre le compravendite immobiliari in Italia sono crollate del 26,3% l'Istat ha dovuto rivedere a ribasso il PIL del secondo trimestre di quest'anno che ha fatto quasi un meno 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso meno 18% non solo diciamo perché questo non è un dato proprio economico ma è importante da capire che negli ultimi anni in Italia più della metà dei cittadini che si sono trasferiti all'estero costretti per la mancanza di lavoro e salari bassi cioè il 53% per essere precisi è in possesso di un titolo di studio medio alto circa 33.000 diplomati e 29.000 laureati vuol dire che stiamo pagando coi soldi pubblici per formare giustamente le nuove generazioni che poi obblighiamo ad andare a fare la fortuna dei paesi nostri concorrenti una follia da tutti i punti di vista come se non bastasse arriva la maxi stangata sulle bollette perché per quanto riguarda luce e gas sono previsti aumenti rispettivamente del 15,6% e dell'11,4% è un record in realtà da quando esistono le tariffe o il cosiddetto mercato libero non si erano mai visti aumenti di questa portata parliamo di circa 200 euro a famiglia l'anno è giusto per dare non solo in percentuale per alcune persone che hanno un buon lavoro non hanno una famiglia possono sembrare pochi i 200 euro l'anno molte famiglie più della metà delle famiglie italiane vanno in difficoltà già a pagare le bollette attuali figuratevi con un aumento di questa portata senti sono tutto questo fa anche il va in accompagnamento con un altro aumento che colpisce e colpirà tutti perché è paventato anche un aumento delle accise sui carburanti e l'intenzione di portare il prezzo del diesel al pari di quello della benzina ovviamente non perché scende la benzina perché aumenta il diesel ovviamente in realtà c'è un disegno può sembrare che uno sia complottista però c'è un'agenda un termine un po' più neutro ben preciso dietro a questo il punto è che non riescono ad abbassare i costi delle cosiddette come dire o le auto elettriche o comunque di tutti quei mezzi di trasporto che rientrano nella macro categoria fantasiosa dell'energia pulita o dell'energia verde costano tantissimo le macchine costano tantissimo le batterie neanche entro nel merito che ha oggi quelle macchine per essere prodotte consumate e smaltite inquinino almeno quanto le auto a benzina o a diesel più performanti ma non riuscendo ad abbassare i costi di quelle autovetture cosa fanno i geni? Aumentano i costi di quelle che si usano oggi per indurti a questo passaggio visto che non riescono ad abbassare i costi delle auto elettriche ti aumentano il costo della benzina in modo da indurti più facilmente o obbligarti a fare questa transizione al verde che ricordiamolo serve esclusivamente per tenere in piedi l'industria automobilistica franco-tedesca certo a queste persone del pianeta non importa nulla non parlano di plastica non parlano di navi cargo che sono quelle che veramente inquinano non parlano di navi crociera di aeroplani gli interessa mantenere in piedi quel tipo di apparato industriale certo cosa prevedi per le prossime settimane perché ci sarà anche il documento economico da discutere anche del governo le prossime settimane che dovrà essere che dovrà passare il vaglio anzi dovrà essere deciso da Bruxelles poi alla fine non mi aspetto nessuna novità diciamo sorprendente i soldi sono sempre pochi e distribuiti a pioggia per provare a fare contenti tutti invece scontentando tutti quanti a maggior ragione quando di soldi ne metti pochi attenzione non pochi in assoluto pochi rispetto alla crisi che stiamo attraversando ovviamente allora l'asta si costretto a fare delle scelte coraggiose e investire fondamentalmente in uno o due settori in modo che almeno a quei due che reputi trenanti gli dai veramente un bello slancio invece fare 10.000 provvedimenti a pioggia che poi sono molto inefficaci abbiamo ricordato due mila volte i problemi della CIG per esempio a chi è arrivato e a chi no non funziona niente si danno soldi a pioggia per far contenti tutti scontentando tutti quindi da questa Nadef soprattutto dettata da Bruxelles non mi aspetto niente di nuovo certo per chiudere allora a dicembre finirà la cassa integrazione in deroga cosa prevedi per l'inizio dell'anno un'impennata vergognosa dei licenziamenti un'impennata vergognosa dei licenziamenti e quindi proprio un accentuarsi della crisi questo non è voler fare i negativi voler essere realisti sono numeri dire che 2 più 2 fa 4 non essere né ottimisti né pessimisti è un dato di fatto è un dato di fatto è una presa d'atto delle cose Gilberto chiudiamo qui la nostra intervista io ricordo ai nostri ascoltatori che Gilberto ritornerà martedì e dalle settimane prossime sarà sempre il martedì grazie e buon weekend grazie a te Carlo e buon fine settimana a tutti quanti